A Gaza l'acqua viene distribuita con i carretti trainati dai cavalli, mentre l'elettricità da oggi non c'è più. È finito infatti il carburante che alimentava l'unica centrale elettrica ancora in servizio. Non possiamo fare il pane, non c'è latte per i bambini, manca tutto, dice quest'uomo. L'esercito israeliano ha sigillato la striscia. Niente, nessuno può entrare o uscire dal territorio palestinese. La situazione già estremamente critica peggiorerà esponenzialmente nelle prossime ore, ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, chiedendo un corridoio umanitario verso l'Egitto per la popolazione civile. L'aviazione di Tel Aviv ha colpito 2300 obiettivi. Le immagini che arrivano sono quelle di una distruzione totale. Questo perché, ha spiegato un portavoce delle forze di difesa israeliane, Hamas nasconde il proprio quartier generale, i propri uffici, i propri depositi di armi all'interno di edifici civili. Colpiremo i capi di Hamas ovunque si trovino, dice il capo di Stato Maggiore, il generale Erzia Levi. Anche oggi, però, dalla striscia di Gaza sono stati sparati razzi verso la capitale Tel Aviv e nel sud, contro un ospedale ad Ashkelon e una scuola Sderot. Ci sono danni, ma nessuna vittima. Le sirene d'allarme sono risuonate anche nel nord di Israele, al confine con il Libano. Esbolla, il movimento filo iraniano, alleato di Hamas, ha fatto sapere di aver inflitto pesanti perdite all'esercito israeliano, che ha risposto bombardando pesantemente le postazioni nemiche nel sud del Libano. E mentre Hamas smentisce l'uccisione e la decapitazione di alcuni bambini nel kibbutz di Kfarasa, stanno emergendo altri particolari raccapriccianti sull'assalto di sabato mattina. Ci sono foto, che non mostriamo, in cui si vedono i corpi di bambini bruciati, proprio a Kfarasa. E poi c'è la storia di una donna che dormiva quando i terroristi sono entrati in casa sua, le hanno preso il telefono e le hanno sparato, trasmettendo poi la morte in diretta sulla sua pagina Facebook.